Ciao, sono Martina. Ho aderito all'iniziativa 100% San Luca per sostenere il restauro del portico. Ho voluto aderire a questa bellissima iniziativa perché soprattutto io sono nata qua a Bologna e quindi mi sento far parte di questa bellissima città e poi abito in questa bellissima zona, ovvero San Luca, e quindi ho aderito con tutto il cuore a far parte di questa iniziativa. Un bacione. Grazie. 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 Grazie.